Dal 22 al 24 maggio, Ariano Irpino sarà il teatro degli europei di biliardo. Al palacardito, l'European Championship Pins Individual. Nella città del Tricolle spicca già il Royal In Game del campione mondiale Ciro Davide Rizzo. Ci saranno in tutto 64 competitor, tra cui 48 iscritti alle qualificazioni e 16 aventi diritto provenienti dalle diverse federazioni europee. Austria, Francia, Giustemburgo, Olanda, Repubblica cieca, Spagna, Svizzera, Ungheria, Danimarca e Belgio, i paesi che saranno protagonisti nella Valle dell'Uvita, con i loro partecipanti. Ci sarà una prima fase eliminatoria a Girona l'italiana, prevista per il 22 maggio, poi quella ad eliminazione diretta nella due giorni del 23 e del 24. Billiard Channel riprenderà l'evento, con le finali invece proiettate sulla Rai. Gli italiani in gara saranno Paolo Marcolin, Paolo Spadaro, Andrea Quarta, Santi Catarozzoli, già campione mondiale, e Ciro Rizzo, proprio del Royal In Game. Su di lui sono poste tutte le attenzioni. Non sarebbe male, dopo il mondiale, portare grazie a lui in Irpinia anche il titolo europeo.